Qualche mese fa siamo stati contattati da un giutaio, Nadal Guitars, che dopo aver visto la nostra serie di articoli sull'uso dei led indirizzabili VS2812B, ci ha chiesto una consulenza. L'idea è quella di incastonare una parata di led intelligenti, pilotati da uno o più arduino, per aumentare l'aggressività di una citarra elettrica per un gruppo heavy metal. Lo spazio disponibile per la circuitazione, l'utilizzo di un sistema configurabile attraverso telecomando infrarossi, il ronzio tipico emesso dalle traspissioni tra led e arduino, centrato in gamma a 1kHz, l'utilizzo di un'alimentazione separata per i led, hanno costituito i problemi da risolvere. Dopo una breve chiacchierata con Gianluca, abbiamo deciso di suddividere il progetto su due schede arduino nano, una per il manico e una per il piatto della chitarra. Da ottimo lutaio, Gianluca ha provveduto a utilizzare il proprio sistema CNC per creare la giusta sistemazione dei led sul corpo della chitarra e prevedere una sezione latero posteriore per l'accesso all'elettronica. Il cuore della creazione, invece, è stato codificato all'interno del secondo arduino. Per rendere la presentazione più interessante, c'è stata richiesta la disponibilità di più programmi di visualizzazione benotto, gestibile al palco attraverso un telecomando infrarossi, in modo da poter gestire le diverse mood delle canzoni. Infine, occorreva progettare un sistema per gestire l'energia richiesta dai led e dalle schede arduino e la ricarica veloce attraverso una batteria lipo sufficientemente potente, ma non troppo invasiva. Si è scelto di utilizzare una batteria classica a 5.000 mA 3.7V ed un boost per portare la tensione di alimentazione del circuito e delle schede a 5V. Per chi fosse interessato alle possibili circuitazioni, ne abbiamo parlato in un articolo riportato in descrizione. Come abbiamo visto, tra l'idea e il progetto finale si sono verificati diversi problemi, tutti comunque affrontati e risolti dal team. L'utilizzo di schede nano a basso consumo ci ha permesso di limitare appunto il consumo di corrente, in modo da consentire alla batteria di durare per tutto lo spettacolo. Il telecomando infrarossi ci ha permesso di inserire sulla scheda diversi programmi di visualizzazione luminosa parametrizzati e garantire in tal modo una maggiore scelta di mappe e pattern luminosi. L'uso di un boost indipendente rende lo strumento flessibile alla ricarica, è sufficiente inserire un mini jack e la batteria si ricarica da sola. Il ronzio dei led rimane un piccolo serieto industriale, che abbiamo lavorato molto e siamo riusciti a eliminare anche quello. Da un progetto apparentemente semplice ci siamo trovati a dover risolvere numerosi inconvenienti tecnici. Quel che conta è che una band che ha suonato poche settimane fa è rimasta piacevolmente sorpresa e soddisfatta del lavoro. Noi abbiamo mostrato un modo di fare making con Arduino altrimenti non accessibile, ci siamo divertiti e magari abbiamo dato qualche idea nuova ai nostri lettori. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.